Non è stato secondo me uno dei miei migliori esordi, però esordire in un derby è sempre molto difficile davanti a tutte queste persone, davanti anche a tutti i miei paesani, perché essendo di grotta per me è molto più sentito. È stato molto difficile l'impatto alla partita, ho dato tutto me stesso e potrò fare molto di meglio in futuro. Grazie.